E come ogni anno la diversione a questa parte, l'ente comune proprio per la sua prontezza, per la sua partecipazione su larga scala, sul territorio, su quelle che sono le esigenze per i cittadini, in modo demografico che ha messo in moto la macchina che abbiamo giù partecipato, dando quest'anno come indirizzo l'arricchimento, l'incremento del verde, l'arricchimento di quelli che sono i parchi ludici e soprattutto anche l'intervento sociale. C'è stata una larga partecipazione, ieri sono stati visti quali sono i progetti più idoni e più rispondenti alle necessità del territorio e della mia cittadinanza, sono state approvate e quindi li metteremo in atto. È un'ottima gestione di trasparenza, di democrazia e di partecipazione su tutto il territorio, da parte dei miei concittadini e dell'amministrazione.